Cazzo, sai che è proprio come quella volta che ho chiesto al salumiere quattordicietto clout e lui mi ha fatto quattordicietto clout e io gli ho fatto quattordicietto clout, sì, lui fa, bro, intendi un kiloclout punto quattro, io faccio, vabbè, zio, dai, è la stessa cosa, sono millequattrocento clout, lui fa, sì, vabbè, c'è, però, nel senso, chi cazzo dice, ettoclout, si parla sempre di kiloclout, e io sono tipo, vabbè, Francia, nel senso, è un sistema di misura, io posso usare quel cazzo che mi pare, se permetti, e lui inizia ad agitarsi, io sono tipo, vabbè, zio, allora tienteli questi millequattrocento iscritti, stronzo, e però poi mi sono arrivati comunque, vedi, karma.